La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Quino, informa su investimenti sostenibili 4.0, la misura che prevede la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese. Sono omissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali. La misura ammette inoltre le spese per i servizi di consulenza. L'intervento prevede spese ammissibili non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiore a 5 milioni di euro e comunque al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato. La domanda di accesso alle agevolazioni può essere compilata a partire dalle ore 10 del 20 settembre 2023. L'invio si potrà fare a partire dalle ore 10 del 18 ottobre 2023. Noi di Confesercenti Vallo di Diano, spiega la Presidente Maria Antonietta Quino, siamo sempre accanto alle piccole e medie imprese del territorio e lo saremo anche per questa nuova misura, offrendo servizi come l'analisi di fattibilità, la valutazione economica finanziaria, lo studio del progetto, la predisposizione formulario e l'invio progetto, il monitoraggio e la rendicondazione. Grazie a tutti!